Miraculous Day su Disney Channel Jack 1 Ciao a tutti, Marinette è qui su Disney Channel Stop! Oh, giusto, mi dispiace, non credo sia una buona idea a rivelare la mia identità segreta e inoltre... scusate, ricominciamo Miraculous Day su Disney Channel Jack 2 Ciao a tutti, Ladybug è qui a... Colpa mia, ripartiamo Miraculous Day su Disney Channel Jack 12 Ciao a tutti, Ladybug è qui su Disney Channel Ehi, ce l'ho fatta! Oh, mi dispiace Miraculous Day su Disney Channel Jack 23 Ciao a tutti, Disneybug è qui su Lady Channel Oh, cavolo, scusate, è che l'idea di passare un giorno speciale il 2 giugno su Disney Channel mi emoziona Insomma, vi rendete conto, vi mostrerò i miei migliori episodi È tutto così, incredibilmente, Miraculous Stop! Ci siamo, ce l'hai fatta! Ce l'ho fatta? Oh, sì! Bene, non vedo l'ora di vedervi tutti qui il 2 giugno per lo speciale Miraculous Day solo su Disney Channel Ritrasformami! Miraculous Day! Il 2 giugno alle 8.30 alle 16.55 su Disney Channel Grazie mille! Grazie mille! Sous-titlam Grazie a tutti.